Un cordiale saluto a tutti voi dal vostro amichevole tizio qualunque di quartiere E da Yotobi qui a proporvi l'ultimo casual giovedì di questo canale Yotizio Game Esatto, l'ultimo casual giovedì perché voglio smazzolare bene il signor Yotobi Per la terza volta a Street Fighter Cross Tech Guardi che mi sono allenato con i cabinati Erano i cabinati di Bubble Bubble però mi sono comunque allenato Esattamente Perché l'ultimo casual giovedì si è a Yotobi? Intanto metta pronto Ha ragione Allora l'ultimo casual perché abbiamo deciso di sostituirlo con un altro episodio di Left 4 Dead Così uno giocheremo più spesso a Left 4 Dead con voi Due Lei c'è a scegliere il personaggio? Certo, certo Non la vedo Eh ma perché sto scegliendo il personaggio? Ha ragione Uno giocheremo più spesso Perché così non dobbiamo aspettare cinque settimane insomma per che finisca la stagione Quindi faremo due episodi della stessa stagione Facciamo i personaggi casuali Ah casuali? No non importa non importa Due è che semplicemente non abbiamo abbastanza giochi da coprire ogni giovedì casual E quindi abbiamo deciso Stanno andando via i miliardi I miliardi che stiamo Ah proprio lei, Rio e Ken senza pietà lei Vabbè Sì Grazie E poi possiamo anche dirlo Sperando che non venga presa come una marchetta Perché Ah semmai Comunque Su Steam Se ci andate adesso In questo momento Fino al 18 marzo Left 4 Dead 2 Che è il Left 4 Dead che noi stiamo giocando È in sconto a 3,50 euro Quindi Secondo me Un bel giocone È un bel affarone Assolutamente poi a 3,50 euro Più di così Cioè un cappuccino e brilasco non sta di più Veramente E adesso è qua via Ho paura che l'audio del gioco sia leggermente alto Eh ho paura anch'io Paura anch'io Aspetti che Io guardi che ho preso io Ma per l'amor di Dio Aspetti eh Prego prego No Eccoci qua Pronto? Sì Uh Non mi deve prendere così all'improvvista Che poi Mi incazzo eh Aspetti Guarda guarda No bastardo Aspetti che c'ho il filo della Adesso ne approfitto adesso No Bloccatissimo la frecce e frutze Sta un po' laggando eh lei Eh io no Da me non sembra Te Allora solo a me Perfetto Con le gasse due merda di pugni Con le gasse due schifo di pugni Eh vabbè Eh vabbè Non mi fa respirare Eh madonna Eh ma non mi devi far arrabbiare Che faccio lo show you can No No cos'era? No Ma che bellino Ma che bellino Cambia Bastardo No l'avevo colpito Sì Guarda guarda Io proprio lo to' trapassato col pugno Proprio Guardi Eh Lui non è neanche contento il signor ryu Io ne ho la sorella Wow ma che bellina quella che ha lei Oh 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 Ma vaffa Che bello che io paro Paratissimo ma io ma fa culo io lo colpisco ho sbagliato a schiacciare no anch'io abbiamo fatto la combo a caso vabbè ho capito qua adesso devo usare la mia mossa no non ci credo sono già morto eh oh non messo con la duken cosa succede dietro c'è un fotografo abbiamo vinto e niente prima mazzolata a me non piace questo gioco ok pronto naggia la pupata adesso random mi devo impegnare ma io mi sono impegnato solo che non riuscivo a fare mezzo colpo guardi allora adesso io creo un'altra difficoltà non cambio il personaggio a meno che non venga con la combo no no ma giochi normale se no non imparerò uh blanca yes blanca è rolento chi è? rolento non sai chi è rolento? per chi non sia contento esatto anche andamento rolento andamento rolento guardi che io sono il signor no warang è la signorina no porca troia sono anche forti tuoi dai 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 anche veloce ma è partito come personaggio come boss di uno dei livelli di final fight per poi diventare uno dei giocatori di di street fighter alpha lo sapeva lei? no stavo pensando se lo sapevo ma mi sembra di no assolutamente sì era uno dei boss di oh dio uh uh guardi che sono tutta luminescente guardi 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 la duke in farloco guardi guardi la duke in farloco è finito a metà strada la duke in farloco ma per quello perché è farloco ma che mossa è quella del bastone? che cazzo tiè guardi mi allontano guardi vieni 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 nooo mi ha bloccato mentre faceva la combo si è no blanca con sa yes yes la mossa poi dicono a me in hub ti aiuto ecco ma no io non voglio neanche fare quella la fa la fa fin troppo spesso no cazzo l'avevo parata no no cambio 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 no no oh ma hai detto che potevo cambiare no cazzo perché torna lei yes yes guarda lo scheletro tiè guarda guarda tiè ma guarda blanca menta mi ha fatto fuori lei è contentissima hai visto ho visto presa nascosta che manco oddio ma dai fai la mossa sua dai fai la super mossa yes eh no pito qua guarda lì no io stavo andando indietro per pararmi lei si è si è è apparso indietro che tristezza è qua guarda eh vabbè eh vabbè guarda che fa delle combo ma vedi che non riesco non riesco a parare perché lei continua a cambiare oh ce l'ho fatto ma ce la fa ce la fa prendere una merda di robe eh niente guarda che ci muoio cos'era non lo so è diventato anche lui sbrinicicoso ma no ma fai qualcosa no lui aah volevo far la combo per cambiare personaggio sai che ha detto mentre moriva figurina secondo me eppure per me guarda che tamarro che ha warang porca miseria abbastanza guarda lo scontro fa roshi anzi no torno con lui guardi uh no no rolento per chi non sia contento guarda ti faccio ma la sta la sta prendendo porca senti una musica che è proprio un'ansia che niente ho sbagliato yes ma ha fatto la presa ma in caso si fa la presa qua già non mi ricordo più ah qua qua ok ok per sicurezza evito ho tirato uh guarda guarda la vendetta no 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 guarda ho fatto proprio volare guarda che non riesco mi sono incastrato nell'angolo mi sono incastrato nell'angolo troppo tempo oh ce l'ho fatta no 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 blanca menta no eh guarda 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 l'infame l'infamata no no eh che cazzo non riesco a no l'avevo preso guarda che sei messo meglio tu eh bello la la duke in su è bellissimo è vero ma devi vedere quello di den oh no i succhiotti no eh baronna che succhiotti tra l'altro no ho vinto io dimmi che ho vinto io yes vittoria victory la verissima yes questa è la bella adesso c'è veramente la bella bella è proprio bella è proprio qua proprio come dice il mago francesco qua godi qua godi niente guardi oh yes oh yes random random chi mi è capitato i cubi del potere ho molta paura faccia random anche questo ok siamo dei madgear hideout eccolo riu yes no ce l'ho io riu eh no ce l'ho io no guarda ma come ma no però almeno quanto per primo tu porca troia tu c'hai rufus ma chi cacchio è se ne torni dove che cavolo è uscito guardi che bellino guardi riu dorato tutto infuocato e christy monteiro le mie tue saghe preferite no eh madonna ma fai uno schifo guarda guarda schifo intanto io sinceramente preferisco la christy monteiro di te ecco non riesco per un wow wow tiè ma no dai 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 e vabbè non riesco per niente non so cosa sto facendo ma mi piace che cazzo ho fatto quanto dura quanto dura yes no eh no no volevo cambiare personaggio non me ne sono accorto della vita cazzo ma no ma ti abbassa pure il volume della musica quando cazzo ma dai siorio toby guardi come bello fuocoso il mio il mio il mio rizzo tiè 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 no eh vabbè la zezze frutze tiè fotti vedi anche quello dietro è Sodom anche lui era ah già è Gomorro me lo riuscite l'avamo detto l'altra volta ah ecco è vero hai ragione uuuh ho fatto una dukel molto farloco salpa no dai che avevo fatto una cosa fighissima me la faccia fare no che cazzo è che bello show you can che l'ho fatto tiè 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 ma porca città chrissi guarda che guardi che sniacca la signorina chrissi oddio guardi guardi un miscuglio di gambe non si capisce non si capisce più niente un orge è diventata sta cosa guardi 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 la soudagi ai 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 yes no 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 qua devo devo cambi no vabbè non cambio ancora facciamo gli onesti eh no io faccio eh via così no cos'era no era fighissimo ma lei yes ma che faccia che ha fatto lei quando è caduta l'ho visto ma è fortissimo beh i capelli trad è fortissimo stanno andando a dormire questi non so cosa sta succedendo anche un po' si è fatta una certa madonna la prutenza no continua continua ma no è che non riusciamo a colpirsi minchia no 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 ma volevo cambiare personaggio mai cazzo no guarda dietro guarda dietro cosa succede che cosa bellissima oddio guarda guarda che passano ancora oddio è stata una sudata che non ti dico ok se vuoi lasciargli detto qualcosa glielo riferi con vabbè quello che è minchia e niente dai vuole fra con una no 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 ma che sa che la voglio voglio proprio guardi questa proprio scelgo di scarsi no faccia caso faccia caso faccia caso vabbè però la vedo con il ricamento della partita non riuscito no è uscito lei l'host è uscito mi ha detto no ma come mai vabbè allora era destino era destino che finisse così e niente questa era la terza rivincita di street fighter cross Tekken e niente e questo questo è l'ultimo gameplay probabilmente di Tekken che vedrete e di qualsiasi altro casual giovedì perché appunto lo ripetiamo sono stati sostituiti dalla nuova puntata di Left 4 Dead che sarà magari anche non una puntata per forza della stagione ma volendo possiamo fare anche un versus nostro oppure visto che parecchi hanno gradito l'idea del versus uno contro uno e basta esatto o un versus o un survivor anche ecco anche un survivor che può essere figo figo esatto e quindi noi ci vediamo al prossimo a domani con il retro ciao Gary ciao Gary ciao Gary quasi eh te l'avevo quasi battuto eh quasi quasi